Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Teleitalia. Il nostro caro Giuseppi si prolunga, si allunga i superpoteri fino a marzo. Nell'ultimo decreto c'è questo e anche altre cose che andremo a vedere fino adesso. Fino al 31 di marzo proroga dello stato di emergenza, proroga dello smart working, il lavoro da casa, per chi ha i figli al di sotto dei 14 anni. Stop alle trivelle per estraneità della materia. Avevano inserito anche quelle cacchio di trivelle che ci mettono i 5 stelle, che ci hanno veramente trivellato. Quindi, il decreto mille proroga, che sembra più un dolce, il mille sfoglie, riceve l'ok dal Consiglio dei Ministri. Anche se con l'aggiunta della formula salvo intese tecniche. Ogni fine anno, anche il provvedimento che include decine di misure che vengono prorogate o fatte slittare. Molte non riescono a entrare nella manovra e quindi vengono recuperate in un decreto omnibus, soprattutto proroghe legate all'epidemia. A partire dallo stato di emergenza, il cui termine slitta dal 31 gennaio al 31 di marzo. E si porta dietro altri provvedimenti, a cominciare dallo smart working, senza accordi sindacali, per chi ha figli sotto i 14 anni. Fino alla possibilità di richiamare in corsia medici in pensione e specializzandi. La proroga della produzione di mascherine in deroga ai Covid hotel, che resteranno aperti per tutto il 2021. Anche Domenico Arcuri vede prolungarsi i suoi poteri di commissario straordinario per il coronavirus. Beh, intanto c'è anche il blocco degli sfratti. Insomma, il blocco degli sfratti. Qui c'è lo zampino di quei mezzi comunisti dei 5 Stelle. Perché sì, i 5 Stelle a volte sembrano usciti da un centro sociale il blocco degli sfratti. Parliamoci chiaro. Chi ha una casa e l'affitta, c'è l'idea che sia sempre un milionario, un miliardario, uno che vive sulle disgrazie degli altri, su quei poverini che non possono avere la casa, c'è il proprietario della casa che va in vacanza con i soldi di chi paga l'affitto. C'è questa idea, no? Io pago l'affitto, lavoro per pagare l'affitto, l'affitto è la metà del mio stipendio, io non mi posso neanche mangiare una pizza e il proprietario di casa con i miei soldi se ne va a fare le vacanze alle Maldive. Questo è quello che pensano quelli che sono in affitto. Attenzione, anch'io sono stato tanto tempo in affitto, ancora non avevo comprato la casa, sono stato parecchio tempo in affitto. Però non è così. Il proprietario della casa ha tutto il diritto di andarsi nelle Maldive con i soldi dell'affitto, di comprarsi un giubbotto nuovo, di comprarsi la macchina nuova. Chi ha una casa e un investimento, al posto che investirli in bot o in altre cose, o in un'attività affitta e quella è la sua rendita. Ci sono anche persone che dell'affitto, l'affitto è l'unica rendita oppure va a completare un'altra rendita modesta che ha. Quindi non è per forza un ricco quello che ha, la casa che affitta, da vedere come un demone, no? Insomma, bloccare gli sfratti non ha senso. Perché bloccare? Eh, ma poverini, ma poverini è un paio di orecchie, nel senso che non c'entra niente, poverini. Se puoi pagare la casa, stai nella casa. Se non puoi pagare, fuori dalla casa, senza se e senza ma. Non capisco quale può essere il diritto a stare in una casa senza pagare l'affitto. Non ha nessun senso, a meno che lo Stato non paghi gli affitti al posto di chi è nelle case. Bene, che lo Stato paghi gli affitti. Non mi sembra che sia così. Questo non ha senso. E questo include anche immobili a uso non abitativo. Che cos'è l'uso non abitativo? Sarà quello commerciale, ovviamente. E' steso addirittura fino al 30 giugno del 2021. Quindi se c'è un inquilino che non sta pagando l'affitto, può stare lì adesso fino al 30 giugno. Alla fine, molti magari che potevano pagare l'affitto, così non lo pago. Tanto mi possono mica buttare fuori. Nessuno mi può buttare fuori fino al 30 giugno. C'ho sei mesi, adesso non pago più l'affitto. Non pago più l'affitto per sei mesi. I soldi me li tengo, così ci vado io alle Maldive. Chi è al proprietario della casa? Ecco, fino al 30 giugno. Voi cosa credete? Che il 30 giugno ce l'ho sfratto? No, le cose si allungano, però. Uno dice, beh, io ho tempo sei mesi, adesso mi sto qua. A fine... Verso il 15 giugno faccio il trasloco, sparisco, gli lascio le chiavi sotto lo zerbino o gliele metto nella buca delle lettere al proprietario e chi s'è visto, s'è visto. A voi sembra qualcosa di normale questo? Può lo Stato spalleggiare questo? Naturalmente, poi ci sono anche i casi delle persone che sono veramente nei guai. Ma anche se le persone sono veramente nei guai, parliamoci chiaro, non hanno diritto di stare dentro una proprietà che non è la loro. Eh, ma poverini? No, no, non c'è poverini, non c'è nessun poverini. Voglio vedere se a voi vi tolgono metà del vostro stipendio per darlo a quelli che vogliono il reddito di cittadinanza. Che ne dite? Eh? Più o meno siamo lì. Agli italiani tolgono la metà del loro stipendio a tutti perché devono darli a quelli che poverini non hanno lavoro, quelli con il reddito di cittadinanza. Quindi il reddito di cittadinanza adesso lo pagano i cittadini con la metà del loro stipendio. E qui la stessa cosa. L'affitto, eh, non me lo pagare perché lo Stato ti permette di non pagarlo. Io dimezzo il mio stipendio perché tu sei lì dentro e non mi vuoi pagare l'affitto perché hai i tuoi problemi. Ma i problemi sono i tuoi, non i miei, no? Chi affitta dice, ma io, il problema è il tuo, non è un mio problema, ma tu mi devi pagare l'affitto, punto e basta. Non c'è il ricco, il povero, il buono e il cattivo. Tu sei dentro un immobile, commerciale o privato, a fronte del pagamento di un canone mensile. Se non puoi pagare il canone mensile, arrivederci e grazie. Questa è quello che io credo sia assolutamente giusto. Quindi viene infatti esteso fino al 30 giugno del 2021, anche se con dei limiti. Cioè vale solo in caso di mancato pagamento alle scadenze, ai provvedimenti di rilascio conseguiti all'adozione del decreto di trasferimento. Qui si va nel dettaglio che bisogna chiedere poi a un commercialista, a un avvocato che caspita significa. Naturalmente fa infuriare i proprietari di casa che da mesi lamentano di essere rimasti fuori da tutti i sostegni e stavolta speravano di essere ascoltati. Decisione dei responsabili. Lamenta con fedelizia che fa carta straccia delle decisioni dei giudici. E se legittimano situazioni di illegalità consolidate, come vi dicevo prima. Il tutto senza alcun risarcimento per le vittime di questa vera e propria requisizione e dopo aver chiesto loro di pagare pure l'Imo, no? Come si dice, cornuti e mazziati, no? Eh, viva l'Italia. Che ne dite? Viva l'Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata.